E' stata presentata ieri l'opera Donne spezzate dell'artista Stefania Spanedda collocata nei giardini di via Scillato e dedicato al ricordo delle 26 vittime nigeriane sbarcate lo scorso anno nel porto di Salerno. Un momento di commemorazione nei confronti di queste giovani donne la cui vita è stata tragicamente spezzata troppo presto. Alla cerimonia inaugurale dal titolo Nessuna violenza insieme all'artista hanno preso parte il sindaco di Salerno Vincenzo Napoli l'assessore alle pari opportunità Gaetana Falcone assessori e consiglieri comunali ed i rappresentanti della scuola Giovanni XXIII di Salerno.